Non solo il caro Bolletti, anche il flop dei saldi, la mancanza di materie prime e la paura dei cittadini del Covid. Tutto questo a discapito degli esercenti che hanno investito in tempo di pandemia. Perciò Confesercenti chiede un tavolo di crisi al prefetto di Pescara. Allora, la situazione è drammatica perché anche alla luce degli ultimi saldi che non sono partiti, le imprese non hanno potuto fare liquidità e quindi hanno ancora maggiore difficoltà a fare acquisti. Questa condizione che è nata dal problema Covid sta diventando un'abitudine a non frequentare le città, non frequentare i negozi. Quindi il primo problema è la paura. Dobbiamo far tornare comunque i cittadini, i consumatori, nelle strade in tranquillità e alla normalità deve tornare anche il commercio e il turismo. Il problema importante è che in questa fase nasce una condizione diversa. Il prodotto primario non viene consegnato ai negozianti. Cioè le grandi aziende non stanno fornendo i negozi, però stanno fornendo le grandi piattaforme online che diventano un problema molto importante perché nonostante che le piccole attività si siano dotate di siti per l'acquisto online, ma il prezzo non è concorrenziale. Abbiamo fatto una lettera, la consegneremo a tutti i sindaci dei comuni con oltre 5.000 abitanti. Abbiamo chiesto in queste ore al prefetto di aprire un tavolo su di crisi provinciale. Chiederemo alle altre associazioni e sindacati di partecipare al tavolo di crisi. Il commercio e il turismo è in ginocchio sulla provincia di Pescara, ma in generale in tutta Italia. Nonostante le azioni intraprese dal governo per il caro Bollette, ciò non basta. Noi chiediamo di essere vicini a tutti i nostri cittadini e ai nostri associati. Questa crisi è veramente forte, ci attanaglia sempre di più, con tante problematiche, con ipotetica guerra e quindi che potrebbero far aumentare ancora di più i prezzi. E poi il lavoro, il lavoro continua comunque a mancare. C'è questa seconda, terza ondata del vario virus. E qui adesso c'è l'omicron che sta comunque portando tante assenze sul posto di lavoro e tutto è un pochino troppo fermo.